Non è questione di domanda, è questione. Per ora sono il vicario e quindi faccio le funzioni. Fini disse che il fascismo è stato il male assoluto, lei lo ripeterebbe? Dove la facciamo questa intervista? Ma è una domanda banale. Il fascismo lei ripeterebbe questa frase? Io non sono costretta a ripetere niente. Ma no, mica la costringo, può dire sì o no? Posso anche non dire niente, no? Però quella è una risposta. No, no, io non rilascio interviste per strada nonostante voi mi stiate accerchiando. Io sto qua per fare due interviste concordate, sia anche per i tuoi colleghi. Ci lasci fare questa cosa? Sì, sì. Vale per tutti, eh, naturalmente. Per quanto riguarda i capogruppi, sarà lei la capogruppo? Questo verrà stabilito successivamente. Per ora, in quanto vicario, esercito le funzioni di capogruppo.